Sì raga, shiny, shiny! E bello a tutti ragazzi, sono GamerJoe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Allenatori, siamo sempre sotto l'evento moda, abbiamo visto nei video precedenti alcune cose molto interessanti. Quindi non so più se sperarci o cosa di trovare un qualche shiny col cappellino da ride o addirittura il Krogunk selvatico raga. Mi raccomando anche voi, la speranza è l'ultima a morire. Dunque ragazzi, eccoci qua in game, speriamo di sculare anche oggi, perché no, perché no. Vedo qua infatti nei paraggi Pokémon molto interessanti, Krogunk, doveva esserci un maggiore spawn di Krogunk raga, perché per trovare lo shiny intendo, perché spawna veramente, cioè ce n'è ma non tantissimi, come ad esempio Skitty, Roseglia, ce n'è veramente tanti e spero di non trovarlo ragazzi, perché ne ho già tantissimi che avevo trovato gli anni scorsi a Dortmund, ai vari Safari Zone e GoFest. Cricketot, mi manca ancora raga, ho visto dei miei amici qua nella mia zona che quasi tutti l'hanno trovato, magari anche due. Io ancora nada, nada de nada ragazzi, vediamo se lo troverò. Coi ride, ecco qua, ecco qua. Prima c'era un Mega Oundum raga, che dannazione mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo, qua ce n'è uno che schiude tra poco, un Mega Ride, vediamo cosa esce, ma devo andare avanti con la Mega Energia di Mega Oundum raga, perché voglio, voglio fare Mega Oundum, proprio, andremo a fare poi lo shiny eh ragazzi, chiaramente, per registrare al Mega Pokédex, Mega Oundum shiny. Ma qua vediamo che abbiamo Moltres, due ride di Moltres, il Charizard non mi interessa, sono quasi arrivato a 999 Mega Energia di Charizard raga, ne ho fatti veramente tantissimi, ora non mi interessa più, perché prima di tutto sono riuscito a registrarlo e ho già fatto la sua Mega Evoluzione di tutte e due le sue forme, e poi con le varie missioni anche che trovevamo, e troviamo ancora in giro, che facendo una missione molto semplice, adesso c'è quella di potenziare un Pokémon 5 volte, e ci dà la Mega Energia, si fa le varie Mega Energie veramente stra stra velocemente, ma proviamo, proviamo raga, 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 a entrare in questo ride di Moltres, perché no? Proviamo a invitare, vediamo abbonati se accetta qualcuno. Allora, 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 andiamo con la squadra di qua, tac, che è ancora quella di Zapdos ragazzi, ma va benissimo, io proviamo così, così, Criplay, grande Criplay, un salutone a lui, che mi ha invitato prima, ma non sono riuscito a entrare, Davide Nico, perché no? E facciamo Marco, dovrebbe ora essere già 5, vediamo, vediamo chi accetta, aspettiamo il countdown, e attendiamo, speriamo in un bel Moltres Shiny. Ok, raga, siamo dentro in quattro, molto bene, molto bene, grandi abbonati, grandissimi, poi chiaramente, come dico sempre, facciamo a rotazione ragazzi, Ma già che parliamo di abbonati, all'ascolto, attenzione a guzzate, si usa questo termine, non lo so, ascoltate bene abbonati, perché ho creato, che lo trovate sotto Community, ragazzi, qua sul mio canale YouTube, andate sotto Community, solamente gli abbonati vedranno questo post, dove ho creato un link, un canale Telegram, solamente per abbonati, quindi tutti gli abbonati al canale, vi invito a andare a vedere sotto la Community, qua sul mio canale, cliccate sul link che vedete, ed entrerete automaticamente nel mio nuovo canale Telegram, solamente riservato agli abbonati, e così almeno possiamo metterci d'accordo, facciamo più ride, ragazzi, perché col gruppo che avevo prima era un macello, era un macello, almeno così solamente gli abbonati, come dire, li aiuto, ci facciamo tanti ride assieme, almeno riusciamo a metterci anche più d'accordo, perché nel gruppo di prima eravamo dentro veramente in tanti, che lo lascerò ragazzi, e non vado a eliminare niente, lo lascerò, continuerò a postare alcune cose, scrivere, potete scrivere tranquillamente, però almeno dedicherò l'attenzione, ecco magari il termine giusto, più attenzione a chi dà maggior supporto al canale. Questo Moltres è quasi giù ragazzi, quindi vi invito appunto ad andare a entrare in questo nuovo canale, ragazzi, che ho appena creato, speriamo di sculare qua, speriamo ragazzi, ok, 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 dai, dai, speriamo, speriamo raga, Moltres Shiny, Shiny, mi piacerebbe tanto trovare un bel Moltres alto in percentuale IV Shiny ragazzi, ma anche un bel 100% normale, perché no, lo Shundo chiaramente, non c'è bisogno di dirlo, è più che apprezzato, 20 tentativi, dai, Shiny check, no, normale, normale, 19,43, ok, eccolo qua ragazzi, due tentativi dopo l'ho catturato, ormai con una mano sola, vedete, con una devo tenere la videocamera, non ancora, non mi sono posizionato con il treppiede, quindi va bene così, va bene così ragazzi, valutiamolo, e infatti non è buono, il 100, andiamo un attimo a vedere, intanto qua ha smesso di piovere, quello che avevo preso, 93,19,66, e ormai dovrebbe essere intorno al 19,70, 19,80 l'ingiro, raga, lo scopriremo se lo catturiamo ragazzi, intanto qua abbiamo un Shuckle normale, che è blu, la forma Shiny, molto bello raga, ma andiamo, andiamo qua a una sezione Missioni ragazzi, perché ho trovato altre due missioni di Smoochum, vediamo, vediamo, vediamo se andiamo a sculare, allora, non abbiamo trovato lo Shiny di Moltres, vediamo un po', Shiny check, primo Smoochum, normale, normale, non Shiny, 5,34, lo lasciamo lì ragazzi, secondo, Shiny check, normale anche questo, 5,44, questo qua abbastanza altino, non è il 100 ragazzi, ma è più o meno alto, è sopra il 90%, vediamo un po', preso, vedete che da missione, lo sappiamo, si cattura veramente, non dovete dargli la bacca dorata, quando c'è un Pokémon da missione, un, cos'è, 91, 96, 93, 91%, ragazzi, niente di che, ma è sopra il 90%, vediamo un po', adesso magari era anche Shiny, di qua, ok, almeno non andiamo a prendere, no, questa qua l'avevo già presa, dannazione, questa, già presa, queste qua, allora, quella con il leader, vediamo un po', qua e qua, ok, dai, 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 che ne ho trovate altre, speriamo di sì, mission, mission, niente, ok, ne tengo lì sempre una, di far schiudere un uovo, raga, perché, non ne ho ancora fatta una, però, dovrebbe dare Smoochum, anche lì, e non ne ho ancora fatta una, però, dovrebbe dare Smoochum, anche lì, ok, ragazzi, ci siamo, uovo in schiusa da 7 km, vediamo un po', vediamo un po', un botto di tempo che non schiudo un uovo di 7 km, potevo anche non schiuderlo, potevo anche, eh, però, da Bari, grazie mille, allenatore che me l'hai mandato dalla Puglia, bellissimo, non so se può andare bene nel PvP, raga, sto Stamfisk, un 10-15-15, interessante, però, interessante, vediamo, raga, vediamo, aspettate, prima di girare qua, però, vado a prendere qua, in teoria, Shiny Check, Shiny Check di missioni da, esattamente, Smoochum, ma niente, 5-25, l'altra, dai, 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 sì, 5-3-3, secondo, no, cosa faccio? diamogli questa, diamogli questa, dai, ho gridato fin troppo, Shiny Smoochum, sì, raga, Shiny, Shiny, finalmente, 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 anche oggi, possiamo dire, dovrebbe essere anche più forte di quello che abbiamo trovato nello scorso video, ragazzi, tanta roba, tanta roba, come ha detto Davide Nico, raga, grazie mille, Davide, mi ha portato fortuna, perché ha detto, sì, che gli Shiny in questo evento erano abbastanza bustati, e infatti, aspetta, non ho visto, non ho visto, è un attimino più forte di quello scorso, ragazzi, tanta roba, 5-3-3, secondo, Smoochum, Shiny, cosa succede qua, cosa succede, che si accendono luci, tanta roba, tanta roba, anche la macchina è felice, ragazzi, ora possiamo andare a girare qua, vediamo, altre missioni, perfetto, perfetto, altre missioni, Smoochum, bellissimo, raga, ottimo così, mi sono fermato qui, in questo bellissimo parco, ragazzi, dove abbiamo effettuato tante volte anche i vari community day, perché c'è uno spawn della madonna, e spawnato fuori questo gotita, che andiamo a raddoppiare anche le nostre caramelle, raga, perché da 11 pl, ottimo, ottimo, che devo fare, sapete, ha ancora la sua evoluzione di questo gotita, ok, raddoppiato le caramelle, tanta roba, spero di trovarne anche uno alto in percentuali V, perché quelli che avevo già erano forti, ma neanche tanto, ragazzi, vediamo un po' questa missione, perfetto, perfetto, raga, e ne ho già due pronte, due pronte, che, aspettate, mi vado a posizionare qua, devo guardare anche dove metto i piedi, raga, perché avete visto, qua da me, ormai la pioggia ha fatto ancora varie catastrofi, infatti è venuto fuori il lago, avete visto le immagini, e c'è abbastanza pantume ovunque, questa panchina però in sasso, vedete qua, voilà, no, non la vedete, eccola qua, più o meno, perché c'è su anche un cartone, è abbastanza asciutta, se no mi bagno uccia pet, andiamo quindi a prenderci queste due missioni, dai, 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 vediamo se sculiamo ancora, ragazzi, smuccio, 533, ok, lasciamolo lì, ragazzi, che è che mi invita, non voglio farlo, perché, confermatemi, ragazzi, Kirlia da Ride non è possibile Shiny, giusto? Parecchi allenatori invece dicono di sì, non so come mai, dai, 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 normale, normale, 541, il 100% non l'abbiamo ancora visto, ragazzi, e mi faccio un giretto, allora qua, tra questi pochi stop qui, vediamo, intanto vado a completare anche questa, e vediamo se trovo altre missioni, qua intanto, raga, bellissimo, bellissimo, mi manca praticamente solo Moltres, ce l'ho già, quindi non contiamolo, mi manca Krogunk col cappellino, poi i vari skitty da Ride e roba varia, così, prima ho fatto anche una missione Voltorb, ragazzi, che lo vedete qua, Voltorb Shiny Blu, che è bellissimo, ragazzi, voi l'avete trovato? Ah, raga, volevo anche dirvi che ho trovato, prima, quando ho girato il po' questo, perché manco ci ho fatto caso, finalmente 9 uova da 10 chilometri, quindi aspettatevi un bellissimo video dove andremo a schiuderle tutte quante assieme, speriamo di trovare Axiu, ragazzi, e chissà, magari anche una bella sculata, però già trovare Axiu, anche lì è uno sculo, è uno sculo, quindi speriamo, speriamo, ragazzi, perché ne ho solo uno, scarso, e prossimamente magari andrò anche a fare uno scambio fortunato di lui, qui, sperando come ne esce, uno abbastanza buono, ma andiamo, raga, qui, perché guardate, ne ho trovate altre, si trovano con una facilità veramente assurda, partiamo con la prima, partiamo, normale, normale, primo Smoochum 535, scarso, secondo Smoochum, dai, 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 che voglio il terzo, voglio il terzo, va già bene così, eh, raga, va già benissimo così, ma voglio il terzo, normali, 3, normali, raga, 5,20 addirittura, allenatori, oggi non ho messo la maglietta a sculo Joe, però è una cosa pazzesca, chi vi avevo detto che mi mancava prima? eccolo qua, sì, cricquetut, cricquetot ragazzi, 31PL, non si può vedere, non si può vedere, però è shiny ragazzi, bellissimo, non cantiamo ancora vittoria, eh, mi raccomando perché questo è selvatico, non da missione, sì, catturato shiny cricquetot, yes, shiny, shiny, bello, bello, bello ragazzi, cosa ho fatto, cosa ho fatto, ho fatto la foto ragazzi, allora do, aspettate, torno indietro, no, 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 preferivo, eh, preferivo Krogunk ragazzi, cos'è, e Roseglia no, però faccio comunque sia i shiny check ragazzi perché a uno shiny sapete che non si dice mai di no, ok, per fortuna ho trovato cricquetot che mi mancava, ragazzi, piuttosto che un altro che avevo già, come ad esempio Marip, ecco qua, ok, torniamo qua, eccola qua la missione, vedete quella che vi dicevo prima delle mega energie, tanta roba ragazzi, abbiamo ancora, ci arrivo qua, così ci facciamo l'ultima missioncina l'insieme, perfetto, perfetto, se mai dopo prendo anche la palestra, che vedo che sono quasi muerti, tac, dai, concludiamo in bellezza, che è già così, shiny smoochomb, check, normale, 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 531 punti, lotta, nient'altro, andiamo a rivedere, però anche perché devo metterlo preferiti, non far la foto, ammazza, che schifezza però almeno ragazzi, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo qua il nostro shiny cricquetot, bellissimo, allenatori, eccomi tornato a casa, andiamo un attimo a rivedere il bottino di oggi, cosa ci siamo portati a casa raga, bellissimo, bellissimo, cioè, due smoochomb, cioè, oggi due shiny, il cricquetot e lo smoochomb, però abbiamo nel box pokemon due smoochomb e il cricquetot ragazzi, da questo evento, ottimo, 523, questo qua avete visto che era il più scarso, il primo che ho trovato, dopo questo qua, un attimino più alto, che potrei anche andare a fare uno scambio ragazzi, visto che ne ho due, è un'ottimissima merce di scambio ragazzi, perché è un pokemon esclusivo, eh, questo qua con il fiocchettino in testa, mi raccomando, giocate abbastanza ragazzi, dedicate il tempo che potete, chiaramente per questi eventi qua dove ci sono i pokemon con i vari costumi, eccetera, perché poi non torneranno più, non torneranno più, a meno che rimetteranno tra anni o non lo so, un altro evento simile che ributteranno dentro questi pokemon qua, altrimenti non li possiamo più trovare, quindi vi auguro tanta tanta fortuna nel trovare qualche shiny col cappellino da ride o selvatico. E infine il cricket hot ragazzi, che non si può vedere con questi cavolo di PL, però quello che ci interessa a noi è averlo registrato shiny. Allenatori, direi che oggi non posso assolutamente lamentarmi, abbiamo trovato due shiny, tra cui uno che mi mancava e uno che l'abbiamo registrato in doppione, però appunto ottima merce di scambio, mi raccomando ragazzi, lasciate tanti pollicioni in su se volete l'egg opening delle uova da 10 chilometri, speriamo di trovare qualcosa di interessante. E per oggi ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto, mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao allenatori! Ciao!